Fra l'altro, un gol bellissimo, ti facciamo i complimenti, te li fa anche Federico Turriziani che ci segue sempre dal Canada E anche Laura, anche Laura Ah Laura ha fatto i complimenti per il gol Però fregategli non chiamare, però potete lasciargli il numero Ok, poi lasciamo il numero così controlli la foto su Whatsapp, la classica tattica Dovete sapere che Alberto Pambianco vuole venire anche giovedì prossimo Nel frattempo invito Mauro Magrini a partire con l'arastica di foto Vuole venire giovedì prossimo perché è convinto che le lampade di Tef abbronzino Vedremo, intanto questa è una dedica alla parte di Federico Turriziani proprio per te Vista la tua barba, nelle vesti del mullah, il mullah Alberto abbiamo qui A seguire ancora, possiamo pure andare dentro Federico Turriziani specialista nei fotomontaggi dal Canada Arda Turan Alberto Pambianco, eccolo qua C'è una chicca anche per te, è il tuo sogno, vestire la maglia del Milan Tu che sei un rosso-nero doc, eccolo qua, accanto a Gigi Donnarumma Esatto, sì E a seguire gli addominali scolpiti di Umberto Bicchiararo Elisa ci confermi che ha questi addominali, sì? Beh questa è quella che più si assomiglia Sì, è la più realistica Non so se è depilato però Grande Ettore Ecco qua, la rimandiamo ancora in un'attenzione Perché Laura potrebbe spostare l'obiettivo Attenzione perché dopo questo addominale potresti fare colpo Nel frattempo come... cosa ha detto? Scusa Non ci provassi Ah ci provassi, certo No, no Abbiamo visto insomma poi che non è una tranquillissima Elisa